Quindi io chiederei un attimo di chiudere gli occhi e di ascoltare insieme questo bellissimo discorso. L'articolo 34 dice che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E se non hanno mezzi? Allora nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante, il più impegnativo per noi che siamo a destinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire da mangiare, dice così, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E' compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo la Repubblica d'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, questa formula risponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica. Perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe, è vero, a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. Allora, avete appena sentito il discorso di Piero Calamandrei, che assieme agli altri grandi padri costituenti, Lapira, Lelio Basso, Moro, eccetera, eccetera, adesso sarebbe lungo elencarli tutti, ha fatto un discorso che richiama non solo il diritto al lavoro, ma anche il diritto al pieno sviluppo della persona umana. Vi ricordate nel primo incontro che abbiamo fatto, perché l'articolo 3 fa parte dei fondamentali, abbiamo appunto parlato che questi fondamentali sono immodificabili e il compito della Repubblica è di rimuovere tutti gli ostacoli per arrivare al pieno sviluppo della persona umana, perché è lì che dobbiamo tendere, è lì che i nostri padri costituenti intendevano la società ideale. Grazie.